Ciao ragazzi, benvenuti nel nether, il posto più bello del mondo E benvenuti in questa nuova puntata da Sky Factory Come sempre, lasciate 700 like E nel frattempo ne facciamo un po' di Attacchi arcosi Sempre ci riusciamo, vieni qua stronzo, dove si è andato? Non lo so, si è fermato Esci, esci da quel posto Benvenuti ragazzi, quindi in questa nuova puntata Stiamo cercando di non uccidere nessuno Che ci possa, insomma, uccidere E sto recuperando un sacco di roba interessante, sapete? Ho scoperto che ci sono un paio di cosette qua vicino Che sono molto interessanti e molto utili Ok? Però non ho troppo cibo Quindi devo un attimo fare un po' attenzione Ehi, piccolo amico Gnaglian, vieni qua, vieni qua slime Ok, slime ucciso, perfetto Vedo che c'è anche sto piccolo amicato imp Che voglio uccidere tranquillamente Perfetto E vorrei anche recuperare un po' di questa roba La soul sand mi serve per fare un paio di cosette interessanti Ma anche questi Questi cosi sarebbero molto utili Ok, buttiamo per esempio No, non sai che mi serve, porcacca Cosa butto? Butto l'hammer e butto la spada Ok Perfetto E dovrei avere abbastanza roba per poter fare Pabababam L'header ragazzi miei Quindi, ehi Figata Ci può stare Ciao amico Vieni qua, fatti uccidere ancora Ok Posso farmi una farm di Leather sinceramente Così almeno non abbiamo più problemi di quel tipo Perché Praticamente è quello Il grande dubbio che ho Mi basteranno questi Slime pearl Cos'è? Cosa fa gli slime fai da quella roba? Credo Ehi amico, ciao E niente Per adesso credo ci siano Un paio di farm di blades Oh merda Farm di blades Però magari ci torniamo Adesso torniamo a casa in modo Molto sciallo Che sarebbe quello di Far così E buttarci nel vuoto Abbiamo la nostra keep inventory Bene Ora che abbiamo tutto necessario Vorrei un attimo Prima di tutto Aprire questa uncommon Che mi ha dato Un sacco di gold E pozioni della forza Questo potrebbe esserci utile Ne partiamo adesso a cuocere questi cruci Qualche ci serviranno Li teniamo qua E dobbiamo finalmente fare la quest Fly Ci servirà della redstone Del led Del silver Del gold Tanto di quel copper E credo un po' di ferro Perfetto E andiamoci a craftare Un paio di cosette Allora ci servirà il jetpack Ricordate abbiamo già messo Cosa qua Allora facciamone tutto questo Che magari Già ce l'abbiamo la roba Perfetto Va bene Poi Mi serviranno 8 No 4 di questi Quindi dovrò farmi 1 2 3 4 5 6 Me ne servono 8 Quindi un po' di ferro Dovrò ancora craftarmelo Tanto abbiamo tipo Infiniti materiali lì Ok Questo coso del leder Non mi impressiona troppo Esattamente questo Lillipad Fa abbastanza schifo Ragazzi miei Bene ho fatto Un paio di lingotti di ferro Possiamo tornare qui Nel nostro crafting E stavamo dicendo Ce ne servono ancora altri due E in realtà Mi sa che ho finito Anche Tutto il copper Quindi mi servirà Un po' di copper Che ovviamente Questi qui vanno fatti In questo modo Mi servono E se ci sono Faccio anche quello di questi Perfetto Non usiamo tutta la nostra redstone Perché abbiamo tanto Quelle 10 pezzi E basta E ok Mi serviranno Altri gear Però oltre a quello Mi servono anche Del vetro Che credo di avere Da qualche parte Manco per il cavolo Proprio Però sicuramente Ho della zend Forse Forse No Quindi della dust Della zend No eh Proprio Grazie Sempre Sempre a dirmi No Non hai in realtà Non hai nulla Grazie minecraft Sempre utile Bene 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 Dobbiamo quindi Finire sto coso Cercando di fare Il più presto Velocemente Tutto quanto Allora mi serviranno Vediamo un po' Vediamo un po' Per fare questo Mi servono Copper Copper Redstone E questi Mi servono due di questi Va bene Dovrei farci la redstone Speriamo di sì Credo proprio di sì Facciamo così Ok Uno e due Oddio sono due In realtà ne ho bisogno Molto di più Ne ho bisogno Perché riesco a fare Malapena uno di questo Stained Cos'è che mi serve ancora Qualcosa ho lasciato Sbaglio In realtà Ah no è vero Mi serve anche del vetro Mi serve un po' Di redstone in più Ragazzi miei Mi sa che Ho fatto un conto sbagliato E sì Ho fatto un conto sbagliato In realtà mi serve Molto di più di redstone Va bene E Mi serve sto coso Mi serve Quindi ferro Ferro E due glass E un pezzo di redstone Ok È tempo di farsi un po' di redstone Aspettate Bene 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 Lo so Adesso troppe volte bene Ma dettagli Mi servono Quasi tutto Cioè dovrei avere quasi tutto Dovrei avere Spero Ok due di questi mi servono Giustamente Ok Uno riusciamo a farlo Perfetto Poi riusciamo a fare anche l'altro Credo di sì Ovviamente Ovviamente Manco per il cavolo Mi servono ancora due di questi Ok Due e due Va bene E Ho finito l'edstone Maledizione Io mi odio ragazzi Mi odio Non sapete quanto Oddio Ma che c'entra Ma ho mancato pure uno Ne manca Te pareva Te pareva Manca sempre qualcosa Manca Ok Due e due Poi ne servono Due Due e manca uno Ovviamente Dei redstone sotto E due di questi Aspettate devo prendere ancora un paio di cosette Mi sembra tanto redstone Giusto Sì Solo redstone mi serve Ho finito Tutto ragazzi miei Wow Cos'è mi manca No Eh no Allora sei stronzo Eh c'ho tutto In realtà Mi manca solamente tre di redstone E Come è led Led Come è led Led Copper in mezzo Tre di quelli E ora il problema è Io Un po' di quello Dovrei averlo Credo Non credo di qua Ma L'ho buttato prima in realtà Quindi non so Nel sicuro se ce l'ho ancora Andiamo Non dimmi che Quella cosa che ho buttato in realtà Mi serviva No E che cavolo Cioè mi serve Raga Stai a farmi un pulverizer Eh no Pulverizer però non c'ho voglia di farmelo Però credo Di averne un po' Da qualche parte Credo ci recuperi Da qualche Dalla sand forse Perché ovviamente sì 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 Sulfor si prende dalla sand No vero Non c'è proprio Un modo di farlo Tranne il pulverizer Oppure nella bezzola Doviamo andare Nella bezzola Doviamo più possibilità Ok Dobbiamo farci anche un pulverizzatore Quindi Vai Che bello Facciamoci tre redstone Che palle Sto episodio Chiameremo la redstone Che non c'è Abbiamo quasi preparato Il nostro sog meal Tipo Adesso dovrebbe tutto Perfetto E quindi ci rimane solamente Da posizionarlo Al suo posto Ovvero vicino All'attimo I macchinari E li mettiamo Qui per esempio Ok Diamone un po' di energia Mi servirà un po' di blades Credo di averne No li ho messi qua niente Verò Manco per il cavolo Questa cosa la mettiamo Qui dentro Ok Ok Tipo anche questi Perfetto Allora Andiamo a prendere un attimo Un po' di blades Credo di averli messi Qui dentro No Li ho messi in questa chest Mi sa Sì Perfetto E questi qua Li andiamo a posizionare Dentro al nostro sog meal Ora Qui dentro dovrebbero Tipo Macerarsi E hanno una piccola percentuale Di dropparci Il sulfur 50% Perfetto Abbiamo preso al culo Al primo Ok Uno Due E tre di questo Più questo sotto E così Abbiamo il nostro bellissimo Ledstone E adesso Jetpack Ok Si fa in questo Semplice modo Bam Bam Oddio Questo ci manca Allora Presumamente devo farlo a mano per forza Perché ovviamente questo non lo prende Ok Led 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 Bam Ragazzi miei Abbiamo fatto il nostro Ledstone jetpack Ora Per ricaricarlo In teoria Ci servirà Un macchinario Io direi Facciamoci Il power monitor Che dovrebbe comunque Tipo ricaricare anche gli oggetti E il power monitor Si fa in questo modo Credo si possa ricaricare Ehm No Non credo si possa fare Presumo Power buffer Non so cosa faccio il power buffer Sinceramente Bella domanda Comunque Per ricaricarlo In genere va bene Anche farci una cella Ok Tipo questa qui Vedete Che si fa con Redstone Merda È vero Si fa con la redstone Ehm Va bene No diamine Troppa redstone Non c'ho voglia Di recuperarla Oppure 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 Cosa possiamo farci Possiamo farci Generator Ok Ehm No però il generatore Non si Non va Ehm Bella domanda Ragazzi Non lo so Sinceramente Che qui non si può mettere Nessuna parte Non si può ricaricare Da queste parti Al massimo Si può mettere qui dentro Ma qui non c'è nulla Ok Bella domanda Dove lo ricarichiamo? Ragazzi mi è venuta un'idea Perché Invece di farmare Con la benedetta Cosa lì Che mi dà un sacco di fastidio La redstone Non proviamo a farci I semi di redstone Infatti sapete che la redstone Si fa da tipo Redstone essence Ehm Bisogna farsi questa roba Minicio sito ovviamente Crucio essence Crucio essence Facilmente fa Fattibile insomma Con la regular E per farlo facilmente Dobbiamo In sostanza Ragazzi miei Fare La regular La regular si fa Così Con 8 di quelli E uno di questi Bam Regular Fatta Ok Adesso mi serve solamente Un po' di minicio Che io dovrei avere In quantità Più o meno Industriali Non dico industriali Ma almeno Un bel po' Ce ne dovrei avere Sempre se Mi è rimasto un po' Me ne è rimasto un po' Ok 62 Va bene Ah no Aspettate Se ne faccio Altri due pezzi Dovrei riuscire Tranquillamente A far tutto Vediamo un po' Qua ne ho un paio Che palle Non ce l'ho Magari ce l'ho Ah lì mi sa che c'ho Aspettate Sapete che cosa Due pezzi rimanenti Di crucio Credo Non qui Non nemmeno No avevo due rimanenti Di crucio Non so dove li ho messi Ragazzi Vabbè ci do un paio Di amichetti Velocemente Anche se in realtà Tipo Sto a prendere questo Per esempio Che già ce l'ho Ok Un miniccio sit Che mi serve ovviamente E Aspettate che ci do un attimo Un paio di questi Anche lì Ecco lì Guardate Bam Ok oddio Sono ammazzati davvero Un sacco qui dentro Perfetto Dobbiamo quindi andare Un attimo Qui Bene Aspettate Qua c'è sto E fare in questo modo Ok 16 di questi Fare così Accio E con 16 di accio Ci facciamo 4 di crucio Vero? Credo di sì Ah ovviamente sì L'altra cosa Bam Crucio 1 2 3 4 Redstone E ovviamente È un miniccio Bam Redstone sit Finalmente possiamo Metterlo al posto Di questi Earth sit Ok E farlo crescere Un pochetto Ci vorranno tipo 9 pezzi Per fare poi Un po' Di redstone Avendo tutto Necessario Ho pensato Di farmi Direttamente Una cosa Molto bella E molto Buona Ovvero Con questa redstone Mi faccio 24 redstone Ah Che bello Guardate Ci ho messo Un po' Per farlo Però Ehi Non sapete Quanto Sono felice Di sta cosa Poi Voglio farmi 4 di questi Ok Benissimo E con questi 4 Vi faccio Ovviamente Anche con questo Se mette il cane Da bagliare Che in realtà Non è il mio Ragazzi Tranquilli Abbiamo il nostro Bellissimo Basic Capacitator Bank Da un milione D'RF Oh Che bello Ora lo carichiamo Perfetto E ci mettiamo Jetpack a caricarsi Qui dentro Sempre se arriva energia In realtà Non sta arrivando energia Perché Perché non sta arrivando energia Perché non sta arrivando energia Perché Diamine Non arriva energia Non lo so Credo Bisogna fare input Ok Ehi Perché non arriva l'energia Aspettate Magari Ah non passa Proprio energia Non passa Come mai non passa energia Ragazzi miei Aspettate Ma se io levo questo Ok Ma me la fai passare L'energia però Oh Vedi Funziona Perfetto E così poco Non andava nemmeno E ragazzi miei Guardate Il mio jetpack Si sta finalmente Riempendo Non sapete Quanto sono felice Di questa cosa Buttiamo sta roba qui dentro Tanto noi non ci sarei più Vai Butta tutto Butta Sti cavoli Ok Oh Che bello Ragazzi miei Bello Mettila addosso adesso Oh Sono eccitatissimo Dopo questa cosa Opla Ragazzi miei Noi ci vediamo Nella prossima puntata Della bellissima Fantastica Sky Factory Come sempre 700 like Come in ogni episodio Cerco cosa da mangiare E noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao ciao ragazzi Prossimo video Yeah Noi ci vediamo Noi ci vediamo